Vittoria doveva essere, anche per dimenticare la bruciante sconfitta di Torino, vittoria è stata e per larghi tratti si è visto un gran bel Napoli. Sì, sono d'accordo, i larghi tratti della partita abbiamo dimostrato nel nostro gioco, le nostre azioni erano di qualità, alcune mancavano un po' la finalizzazione, però siamo contenti della vittoria che ci voleva ora. Pensiamo al martedì che ci si aspetta un'altra grande partita. Votanti sui primi due partite, come dicono quelli bravi, per voi è un motivo di tranquillità? Sì, questo dimostra che la nostra difesa ha lavorato molto bene, poi partendo dall'attacco che sono primi loro a difendere, abbiamo fatto bene, non abbiamo preso gol e siamo contenti. Con una doppietta inaugura il nuovo San Paolo, proprio Mertens alla vigilia di questa stagione aveva detto se arrivano calciatori di qualità possiamo davvero essere forti, secondo te lo siete? Dove potete arrivare? Sì, secondo me i giocatori di qualità sono arrivati e stanno già dimostrando da subito, poi Mertens è un campione e speriamo che farà altri tanti gol per noi che ci aiuterà a vincere. Non è mai facile ripartire dopo la pausa delle nazionali, invece avete fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo è venuta fuori tutta la vostra qualità. Sì, siamo contenti, non è facile perché per esempio Lozano è arrivato, si è allenato ieri con noi, quindi ha fatto viaggio, tutto quanto, poi alcuni sono ritornati giovedì, quindi potevamo essere anche un po' stanchi alcuni giocatori perché abbiamo fatto, io ho fatto due partite da 90 minuti, poi anche altri hanno giocato, quindi niente, siamo contenti di come è andata oggi. Il Fiotto è tornato anche grande pubblico, con un grande pubblico, con uno stadio nuovo, non ce n'è per nessuno allora. Sì, sì, siamo contenti che potevamo tornare finalmente al nostro stadio davanti ai nostri grandissimi tifosi, hanno dimostrato come è solito che ci sostengono e questa vittoria è anche per loro.